Buongiorno a tutti, oggi parliamo con due ricercatrici dell'Indire, precisamente con la dottoressa Pamela Giorgi e con la dottoressa Francesca Davida Pizzigoni. Loro sono le responsabili di un progetto molto interessante che è il dossier della storia dell'educazione. Dentro questo dossier è uscito proprio poche settimane fa il primo volume di cui adesso parleremo appunto con loro. Questa collana però sta all'interno di un progetto più ampio che è finalizzato alla valorizzazione dei fondi storici, dei fondi d'archivio di cui l'Indire è in possesso. Ecco, dottoressa Giorgi ci spieghi da che cosa arriva questo progetto, quali sono le origini e com'è che l'Indire è proprietaria diciamo di questo importante archivio che ha a che fare con la storia della scuola italiana, con la storia dell'educazione in Italia. Bene, la ringrazio intanto di questo invito che veramente siamo onorate di questo invito da parte vostra e ci fa molto piacere cominciare così a divulgare questa iniziativa a cui teniamo molto, teniamo molto davvero come gruppo di ricerca. Condirigiamo questa collana con Francesca Davida Pizzigoni che appunto è ricercatrice dell'Indire ma insegna anche all'Università di Torino e niente, io invece sono Pamela Giorgi e coordino la linea di ricerca Indire e valorizzazione del patrimonio storico. Quindi il dossier di storia dell'educazione nascono in questo alveo, cioè nell'alveo del patrimonio storico e del lavoro che è stato fatto sul patrimonio storico culturale che Indire conserva e che poi si è ampliato negli anni perché abbiamo un gruppo di ricerca abbastanza nutrito e molto attivo che lavora molto anche sul tema dell'uso didattico e formativo del patrimonio culturale. Quindi pian piano ci siamo anche emancipati da questo che abbiamo sviluppato, quello che poi è uno sviluppo fisiologico delle attività di ricerca che vertono sui patrimoni storici e culturali. Questo importante, questo imponente, anzi archivio storico che l'Indire ha, da che cosa ha origine? Cioè come mai l'Indire è proprietario di questo importante patrimonio? Allora, bene grazie della domanda di nuovo, dunque Indire nasce, in realtà l'antecedente istituzionale di Indire è la mostra didattica nazionale di Firenze del 1925, ovvero all'indomani della riforma gentile del 23 il gruppo di intellettuali che erano vicini diciamo a Giuseppe Lombardo Radice che come sapete era direttore generale dell'istruzione e all'interno della riforma si era occupato molto del tema dell'istruzione primaria perché era direttore generale appunto all'istruzione primaria al Ministero dell'istruzione allora e che poi si dimette lo sappiamo nel 1924 all'indomani del delitto Matteotti però collabora insieme a Giovanni Calò anche a Codignola una serie di intellettuali alla a questa mostra che viene fatta a Firenze e a cui partecipano tutte le scuole italiane su invito ovviamente del Ministero e non solo le scuole italiane ma anche gli editori i produttori di oggetti di manufatti di arredi per rappresentare quelle che erano le novità del sistema di istruzione quindi sia dal punto di vista metodologico ovviamente si puntava sulle scuole attive a cui era molto legato tutto il gruppo di radice ma anche su tutto quello che erano le novità tecnologiche editoriali eccetera c'è una didacta di un tempo anche come tipo di taglio ecco anche commerciale perché c'era anche tutto quell'aspetto là un po' costruita sul modello dei grandi eventi espositivi che tra 800 e 900 si realizzano in tutta Europa quindi per permettere luce noi processi di modernizzazione in sostanza e questo materiale che arriva a Firenze molto copioso di tipo bibliografico ma anche di tipo documentale documentale di vario tipo dai materiali scolastici che vengono selezionati da delle commissioni di alcune per esempio fa parte Codignola stesso che giungono e vengono filtrate a Firenze per mostrare l'esperimentazione a livello metodologico ma anche appunto materiali fotografici che arrivavano che documentavano le trasformazioni del sistema di istruzione di un paese si voleva anche rappresentare come moderno che perché aveva questa necessità ecco questo materiale rimane a Firenze anche all'indomani della chiusura della mostra e poi c'è un processo lungo di transizione in cui questo materiale si stabilizza viene musealizzato prima diventa una mostra nazionale per volere di Giovanni Calodi tutto il gruppo appunto che lavorava anche che insegnava al magistero a Firenze e poi diventa museo nazionale della scuola con l'appoggio del ministro Bottai viene ripensato tutto uno spazio espositivo all'interno di Palazzo Cerini che è un palazzo che ancora noi occupiamo a Firenze e che viene ripensato con l'intervento dell'architetto Giovanni Michelucci che quindi ripensa tutti gli spazi con un progetto architettorale molto complesso che vede anche altre figure non solo di architetti importanti ma anche di pedagogisti che lavorano a questo a questo spazio e quindi questo patrimonio si implementa sempre di più fino ad avere quello che abbiamo oggi che in parte è stato anche è stato anche danneggiato dall'alluvione di Firenze del 66 in parte è stato perduto per un riflessivo scarto d'archivio che come sapete sui materiali scolastici nei decenni è purtroppo sempre avvenuto finalmente adesso ci si presta più attenzione anche da parte del mondo della ricerca ma per tanti anni il mondo della ricerca accademica è stato in questo ambito è stato molto scollegato dal patrimonio della scuola perché si considerava un patrimonio minore anche le sovraintendenze era l'ultimo patrimonio che attenzionavano perché prima c'erano altre priorità no e questo luogo però conserva che cosa oggi conserva una fototeca molto molto importante perché sono 14 mila immagini forse anche un po di più perché tutte le volte che scopriamo ulteriori tra l'altro qui con noi lavora una storica della fotografia Irene Zoppi che la curerà proprio il secondo volume dei dossier e ogni tanto scopre qualche altro segmento di questo archivio fotografico quindi pian piano lo arricchiamo ma insomma 14 mila immagini sono un corpus documentario grande e che rappresenta la storia fotografica della scuola italiana dal primi anni 15 del 900 fino a tutti gli anni 60 del 900 per su tutto il territorio nazionale e con varie tipologie di varie tipologie di materiale fotografico soprattutto si può dire organizzato secondo varie serie che rappresentano vari temi legati alla storia della scuola quindi dalle metodologie alle tecnologie introdotte ai tipi all'edilizia agli arredi quindi capite qual è la ricchezza perché anche dal punto di vista storico sociale antropologico e culturale si può agganciare questo patrimonio sotto vari sotto vari profili insomma sotto vari punti di vista poi c'è un archivio invece più documentale che è che è un archivio in parte piccolissimo il segmento istituzionale perché la parte istituzionale è quella che è stata più invece danneggiata negli anni perduta mentre ci sono molti archivi di persona di personalità quello di giuseppe lombardo radice quello di ottavio giglie quello per dire personaggi di maggior rilievo un segmento dell'archivio di luigi bertelli ovvero di vamba i ferranti a porti ci sono vari archivi importanti vari archivi di persona tutti gli archivi dei pedagogisti del secondo novecento che sono arrivati grazie alla donazione fazzi al maier quindi per dirne uno borghi lamberto lamberto borghi una parte alla scuola normale di pisa un'altra parte però qui da noi l'archivio di franco cambi che ancora vivente però è giunto da noi quindi di filippo la porta tanti pedagogisti legati molto anche alla scuola toscana della della pedagogia del secondo novecento e poi ci sono archivi di famiglia che sono arrivati qua legati sempre al tema scolare archivi di maestri e poi abbiamo continuato ad arricchire questo archivio con per esempio raccolta di memorie orali le memorie magistrali di cui poi parlerà meglio la mia collega francesca davida pizzigoni è un progetto che ancora in corso e di cui parliamo nel primo numero degli archivi quindi raccolte di testimonianze orali di docenti si sono occupati di processi di innovazione tra gli anni settanta e gli anni novanta che sono un po a livello documentale un buco nero a livello documentale perché sono stati insomma sono insegnanti che poi sono andati in pensione di recente quindi non si percepiscono ancora non si sono percepiti come fonte invece noi li abbiamo percepiti come tale. Senta dottoressa ritorniamo allora alla collana di cui è uscito questo primo volume e ne parliamo con francesca davida pizzigoni e sentiamo un po da lei che ci racconti un po più nel dettaglio che cosa contiene questo primo questo primo volume. Molto volentieri buongiorno a tutti e grazie memorie di scuola parliamo di memorie cosa significa questo abbiamo pensato proprio rispetto a uno dei filoni di ricerca dell'archivio storico in dire abbiamo pensato di dar voce alla memoria e ai ricordi di chi la scuola l'ha realmente fatta cioè vissuta animata cosa significa questo gli insegnanti che negli anni passati nella storia recente hanno contribuito al rinnovamento pedagogico e didattico della scuola. Quindi come si articola questo questo volumetto? Ebbene si articola restituendo i vari filoni di ricerca sulle memorie orali sulle fonti quindi orali che abbiamo raccolto e quindi sono sicuramente gli insegnanti MCE tutti conosciamo il movimento di cooperazione educativa un grande movimento di rinnovamento pedagogico in senso democratico in senso cooperativo e partecipativo che ispirandosi alle tecniche di Frenet porta in Italia a partire dagli anni 50 alla 51-52 le tecniche didattiche come le chiamava Bruno Cari di Frenet cioè una didattica laboratoriale. Quindi abbiamo una serie di raccolte proprio di voci dei veri protagonisti di questa innovazione quindi non solo teorica ma proprio pratica agita tutti i giorni in classe con un affondo anche sulla realtà torinese. Perché Torino? Beh lo sappiamo. Torino negli anni 60-70 fu meta della grande immigrazione interna italiana attorno all'industria Fiat per cercare lavoro si veniva a Torino. Quindi abbiamo una città che raddoppia in dieci anni il numero di abitanti, una città che letteralmente scoppia e perché non bastano gli spazi e non bastano anche gli spazi scolastici. Quindi uno degli affondi che restituiamo dentro questi dossier in memoria di scuola è proprio come i maestri hanno risposto a questo bisogno di scuola. Senta, allora abbiamo detto questa la prima parte di questo volumetto è quello che lei ci ha raccontato. Essendo la prima parte vuol dire che ce ne sono anche altre. Con il resto del volume di che cosa si parla? Un secondo filone che abbiamo trattato sempre attraverso le memorie di chi è stato insegnante rappresenta la storia della scuola valdese. Voi sapete che nelle tre valli piemontesi attorno a Pinerolo vi è una storicamente una comunità di confessione valdese e per i valdesi la scuola fu un fulcro di vita culturale ma anche di identità. Perché saper leggere e scrivere non solo permette l'accesso diretto alle sacre scritture ma anche proprio la sopravvivenza di quella che era una minoranza che non ebbe la piena libertà fino al 1848. La storia delle scuole valdesi è legata anche al nome di un curioso personaggio, un generale britannico che addirittura aveva combattuto contro l'esercito francese di Napoleone Bonaparte a Waterloo. Chi era? Charles Beckwith, incaricato di rinnovare la scuola e portò la scuola in ogni più piccola borgata, anche zone montane di due tre famiglie, una scuolina, quelle che sono chiamate scuoline Beckwith. Che tipo di scuola? Beh, una scuola pluriclasse, una scuola aperta sia a maschi che a femmine e soprattutto una scuola che appunto porta un tasso di alfabetizzazione altissimo, molto più alto rispetto alla media nazionale che noi conosciamo. Queste scuole anche nel novecento furono aperte in maniera rispetto come scuole sussidiate, cioè dove i piccoli comuni aiutavano la vita della scuola perché esse sono state riconosciute come un presidio fondamentale per ogni territorio. Ecco che le memorie degli ultimi maestri delle scuole Beckwith confluiscono quindi nell'archivio storico in dire e quindi anche in questo dossier che noi abbiamo preparato. Non solo, abbiamo altri filoni. Un altro filone, curato da Pamela Giorgi, è sulle maestre di frontiera, cioè quelle maestre donne di inizio novecento, che spesso appena patentate, cioè con questa patente da maestra, quello che era il loro diploma, partivano per andare in scuoline rurali, spesso lontane molti chilometri da casa, per insegnare. Insegnare dove? In scuole povere, con pochi mezzi, assolutamente pochi arredi, pochi sussidi didattici, dovevano da una parte cimentarsi con una nuova professione, perché immaginatevi delle ragazze magari ancora minorenni, giovani, 19 anni, che partivano per la prima volta da sole e per la prima volta a dover fare didattica. E poi appunto quindi in cittadine nuove, con esperienze di vita nuova, ma anche con esperienza didattica nuova. Quindi quali pensieri avevano, quale vita, quale riflessione didattica e metodologica? Ebbene cerchiamo di restituirvela in questo dossier, per vedere come è cambiata anche la condizione magistrale femminile e quali strumenti mettevano in atto, quali sussidi utilizzavano. Avendo sfogliato il volume e avendo esaminato un po' l'indice, mi pare che poi ci sia un'ultima parte in questa pubblicazione dove si parla di un argomento molto interessante, cioè la cosiddetta biblioteca scolastica, che all'epoca era uno strumento didattico importante, perché dava la possibilità ai bambini e ai ragazzi di leggere molto, anche magari di portarsi a casa il libro per poterlo leggere nel pomeriggio, perché all'epoca non c'era ancora la scuola a tempo pieno. Ecco, quindi cosa avete scoperto in questo filone e che cosa ci raccontate in questo capitolo del volume? Grazie, certamente. La bibliotechina scolastica era un modo per avvicinare i ragazzi alla lettura, laddove a casa non vi era disponibilità di libri, ma soprattutto alla mena lettura, cioè a capire proprio il divertimento, il gusto, il piacere di leggere. Abbiamo trattato due casi specifici, le bibliotechine scolastiche promosse da zia Mariù, ovvero la figlia di Lombroso, Paola Lombroso Carrara, figura torinese di grande spicco, lei era anche autrice per l'infanzia, ma era promotrice di una grande iniziativa che coinvolgendo direttamente gli alunni li chiamava a attivarsi come cittadini per far qualcosa, per trovare i soldini affinché potessero regalare libri e bibliotechine scolastiche a delle scuole molto povere, scuole rurali, che non avrebbero avuto modo di accedere a questa lettura e a questo piacere. Quindi davvero l'esperienza di zia Mariù è fondamentale e qui, come dire, la restituiamo attraverso la sua voce che viene riportata sul suo bollettino, il bollettino delle scuole, delle bibliotechine rurali di zia Mariù, in cui lei direttamente racconta tutta la vita di queste bibliotechine e come gli alunni riescono a ingegnarsi in ogni modo per trovare i soldini a favore di altri bimbi un pochino meno fortunati. La seconda voce è la voce di Hildegarda Ocella, figura un po' meno nota, ma donna molto decisa e molto appassionata di letteratura per l'infanzia, che apre un consorzio, pensate un po', proprio qui in Piemonte, per dotare tutte le scuole di una prima bibliotechina scolastica quando, ripeto, in classe non vi era nulla. Per farvelo capire provo solo a dire questo, non solo donava i libri, donava anche l'armadio in cui metterli. La povera scuola non aveva neanche, come dire, un ripiano o un armadio. E' molto buffo leggere sempre dalla sua voce, dalla sua corrispondenza, come faceva a selezionare i libri. Lei proprio sapeva indirizzare il libro per l'infanzia in base all'età, quindi aveva già capito che esisteva un giovane lettore con dei gusti e con uno sviluppo cognitivo adatto a una lettura e lei dice, oh cuore, è troppo divertente, è troppo dolce, immaginatevi il libro cuore quanto possa essere divertente e dolce, ricordate quante lacrime nel libro cuore, eppure lei diceva troppi cuorini, coruzzi e sdolcinamenti, e quindi dobbiamo insegnare al ragazzo a leggere, a svagarsi, sì, il piacere della lettura, ma anche con il piacere del vero. Ecco, questi sono i filoni, le memorie, le voci degli insegnanti, cioè di coloro che davvero hanno lavorato per la scuola, che cerchiamo di restituirvi, ripeto, per ispirarci tutti quanti, per trarre le nostre riflessioni e perché no, nuovi esperimenti in cui noi siamo i protagonisti e li mettiamo in atto in classe. Torniamo a lei, dottoressa Giorgi, abbiamo sentito i contenuti di questo primo volumetto, che lo ricordiamo può essere agevolmente scaricato dal sito dell'Indire, e ritorniamo però appunto alla collana nel suo complesso. Che cosa ci sarà nei prossimi volumi? Lei è un po' la responsabile generale dell'intero progetto, dell'intero programma, ci dà qualche anticipazione sui prossimi volumetti? Certo. Allora, come come le abbiamo detto, noi cerchiamo con questo dossier, con questi dossier, di mettere, non solo di valorizzare cosa conserviamo noi all'Indire, e che è tra l'altro cosa conserviamo, è ben visibile anche dalla nostra pagina web, perché il patrimonio pian piano l'abbiamo reso accessibile, ma cerchiamo anche di mettere, di valorizzare tutte le collaborazioni scientifiche che portiamo avanti, per cui ci saranno altri soggetti istituzionali che parteciperanno con noi alla costruzione di questi dossier. Allora, il secondo volume dei dossier, appunto di questa collana, che uscirà a breve, sarà curato da una storica della fotografia che collabora con noi da tanti anni, che è la dottoressa Zoppi, che si occuperà di un numero dedicato al concorso fotografico Un giorno di scuola del 1961, quindi lavorerà su quell'archivio fotografico che vi avevo detto che abbiamo, che conserviamo, che è molto importante, e cercherà di andare a sondare il rapporto tra la documentazione e la sperimentazione mediatica fatta in quegli anni. Quindi questo sarà il secondo volume. Probabilmente avrà un'introduzione del professor Luigi Tomassini, che anche collabora con noi molto spesso, e quindi uscirà a breve. Il terzo volume, invece, il terzo numero della collana, sarà a cura del gruppo del lavoro del professor Fabio Caffarena dell'Università di Genova, sulle carte dell'archivio Ligure di scrittura popolare. Quindi anche questa è una collaborazione che ci vantiamo di portare avanti, che sta sperimentando l'uso didattico e formativo degli archivi, anche con loro, non solo con loro portiamo avanti questa sperimentazione. Nel loro caso specifico, appunto, lavoriamo su questo fondo che è molto importante, lo sapete, è un fondo che poi è stato creato dal gruppo di Gibelli negli anni Ottanta, conserva un patrimonio molto importante, molto ricco e prezioso, probabilmente con un'attenzione alle memorie della migrazione. E quindi in quell'archivio andranno a cercare Fabio Caffarena e i suoi ricercatori questo tipo di materiale per andare a vedere come raccontarlo a uso didattico e formativo. Quindi penso sarà un bel numero che finiranno di lavorarci verso giugno e probabilmente uscirà tra l'estate e i primi di settembre. Bene, ringraziamo Pamela Giorgi e Francesca Davida Pizzigoni di questo racconto, insomma di questa presentazione, di questo importante progetto dell'Indire e ci permettiamo di concludere quindi anche con un suggerimento alle scuole, agli insegnanti. Facciamo attenzione perché il lavoro che facciamo a scuola, il lavoro che facciamo in classe non dovrebbe essere disperso come molto spesso purtroppo accade, come giustamente loro ci hanno ricordato in questa chiacchierata, spesso gli insegnanti non hanno la percezione della importanza del lavoro che stanno facendo e quindi anche della necessità e della utilità di documentare quello che si fa sia per se stessi ma anche per le nuove generazioni di insegnanti. Quindi diciamo che forse questo è anche un aspetto da non trascurare, da non dimenticare. Grazie ancora a voi, grazie, buon lavoro e buon lavoro all'Indire. Grazie a lei, a presto.